Hyundai suona la carica con la nuova i20, ponendosi l'ambiziosa quota del 3% per il mercato italiano, pari a 12.000 esemplari circa. Prodotta e sviluppata in Germania, la vettura è stata pensata per il mercato europeo. Cambia il look, soprattutto all'anteriore, con nuovi gruppi ottici con luci diurne a LED e forme più squadrate e regolari all'insegna della razionalità. Una vettura che in soli 4 metri di lunghezza riesce ad ospitare comodamente 5 persone. Ampia la gamma motori con potenze variabili tra i 75 e i 100 cavalli, distribuiti su cilindrate da 1100 a 1400 benzina e diesel, con una versione GPL in arrivo a primavera. Prezzi a partire da 13.200 euro e garanzie a 5 anni a chilometri limitati.